Un saluto a tutti da Stefania Cattaneo di Trebimeteo. Vi ricordo che potete scaricare la nostra applicazione disponibile in tutti gli store sia per smartphone che per tablet alla voce Trebimete così seguire insieme le nostre previsioni. E la nuova settimana infatti vede questa perturbazione che interesserà soprattutto il centro-sud in modo particolare Lazio, Abruzzo, Campania e Alta Puglia estendendosi al resto del meridione già nella giornata di lunedì salvo probabilmente che vedete sulla Sicilia. E anche in questo frangente sarà possibile qualche fenomeno di forte intensità e piogge frequenti. Invece al nord come potete vedere torna a prevalere il sole su gran parte delle zone però attenzione alle nebbe che potranno arrivare sia nelle ore notturne che al primo mattino in particolare sulla Val Padana. E infine in tutto questo contesto diamo lo sguardo insieme anche a quelle che sono le temperature perché saranno in aumento al nord ma comunque tutto sommato in quelle che sono le medie del periodo.